Ingegnere Mirena Coccia, neodirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale. Per lei il principio di distinzione tra attività politica e attività gestionale nelle amministrazioni pubbliche è ancora di difficile attuazione? No, non credo sia di difficile attuazione, anzi secondo me è un principio sano che deriva dalla Costituzione e poi attraverso la legge. Lo trovo, forse perché sono un militare in congedo, lo trovo assolutamente necessario e l'ho vissuto nel mio passato e anche nel passato recente nella pubblica amministrazione. Credo non ci siano conflitti laddove chi come me è un funzionario dello Stato e quindi della pubblica amministrazione sa perfettamente qual è il proprio compito. E cioè non devo decidere, non devo dare io una impressione o una nota personale. Io devo eseguire, sono all'interno di una macchina amministrativa che esiste prima di me e prescinderà da me quando passerò. Quindi il mio dovere è fare tutto all'interno del contesto che è la legge, perché per me è fondamentale, ma assolutamente accogliere le stanze di un'amministrazione che è quella che uno parla a nome di chi le è eletti e due conosce il territorio, conosce le esigenze e che quindi deve indirizzare la linea politica. La parte amministrativa arriva dopo quando sono stati scelti gli obiettivi. Noi arriviamo dopo e arriviamo all'interno del contesto della normativa e della struttura. Per lei trasporre nelle amministrazioni pubbliche modelli e schemi della dirigenza delle imprese private è possibile o l'amministrazione pubblica richiede altri modelli ed altri schemi? L'amministrazione pubblica si inquadra all'interno di una legge e questo lo ripeto sempre e quindi sembrerebbe più rigida. In realtà soprattutto la riforma degli ultimi anni del pubblico impiego va proprio verso quella direzione di renderlo sempre più flessibile da un punto di vista dell'organizzazione e della gestione ma soprattutto della possibilità di portare quella che è l'efficienza e l'efficacia del privato anche nel pubblico. Io ho avuto questo tipo di esperienza quando dal privato sono entrata nel pubblico prima amministrazione centrale all'interno di un ministero poi in un'amministrazione periferica quindi in un'amministrazione comunale e devo dire che c'è più difficoltà semplicemente a superare la resistenza al cambiamento delle persone ma in realtà le dinamiche sono legate ai procedimenti e ai processi della pubblica amministrazione. Basta analizzarli, capirli, comprenderli, capire quali sono i punti deboli e poi si efficienta e questo è esattamente quello che fa il privato. Quindi il pubblico rispetto al privato non deve avere nessun tipo di remora o paura. Si può efficientare, si può fare bene. Certo c'è bisogno di un po' di tempo per cominciare a cambiare le dinamiche che invece per tanti anni sono rimaste a parlarsi addosso. Però sono molto positiva, io sono un'entusiasta della pubblica amministrazione e quindi penso e spero che si possa fare. I tempi non saranno immediati ma potrebbero stupirci secondo me. Le prime scelte gestionali saranno rivolte all'efficientamento della gestione delle risorse umane assegnate al suo ufficio o partirà dalle risorse tecniche? Le risorse umane sono la parte rigida dell'organizzazione, molto spesso non dipendono da noi, intesa come numeri, intesa anche come età perché è un comune in cui gli ingressi risalgono a tanti anni fa. Ma non diciamo proprio quanti. Quindi la parte sicuramente che è poi più affine a quello che ho sempre fatto è aggredire intanto la parte tecnica perché le amministrazioni comunali hanno bisogno di innovarsi da un punto di vista informatico, di procedure, perché questo è quello che vogliono i cittadini perché noi siamo sempre più cittadini digitali abituati ad avere un'amministrazione pronta, attiva e che parli la nostra stessa lingua. Quindi da cittadina, prima ancora che da funzionario e da dirigente tecnico, dico che dobbiamo andare incontro alla informatizzazione e quindi cominciare da punto di vista nostro interno a cominciare a prendere la parte tecnica in mano. Certo, la parte del personale innanzitutto si potrà fare, data la rigidezza dell'impiego, cominciare ad ammodernarci, a riorganizzarci internamente, a studiare i processi e i procedimenti di cui dicevo poc'anzi e quindi in questo senso possiamo, secondo me, fare tanto. Poi, certo, vorremmo tutti una schiera di colleghi pronti, giovani, di vent'anni o neolaureati, ma purtroppo l'amministrazione pubblica non se lo può permettere. Intanto iniziamo con la parte tecnica e con la parte formativa e soprattutto di superamento di quella che è un po' la difficoltà di alcuni colleghi, che è normalissima di cambiare, perché il concetto del si è sempre fatto così non può più andare bene. E quindi cominceremo a cambiare da quello. Non si è sempre fatto bene e si può fare meglio. Allora, buon lavoro. Grazie, grazie mille. Architetto Gianni Totaro, Assessore all'Urbanistica e ai Lavori Pubblici del Comune di Ortona. Un primo bilancio del suo assessorato. Le due cose che si sente di aver risolto brillantemente. Allora, come sapete i tempi dei lavori pubblici sono sempre abbastanza lunghi, dal momento in cui si ha un'idea progettuale o un problema della città. I tempi di esecuzione per progetto, riperimento dei fondi ed esecuzione sono sempre abbastanza lunghi. Diciamo che questi primi mesi sono stati utili soprattutto per capire la città, le esigenze che aveva e per programmare. Qualcosa lo si è risolto subito? Sì. Abbiamo ad esempio, stiamo in questi giorni cominciando i lavori sulle riserve. Quelle che consentiranno l'accesso alle spiagge del Ferruccio e dei ripari di Giobbe, la sistemazione dell'Acquabella. E questo è un qualcosa che ci interessa molto perché contribuirà sicuramente alla nascita di una nuova economia turistica insieme allo sviluppo della pista ciclabile per la quale stiamo elaborando un progetto di completamento che sottoporremo alla Regione e che non abbiamo dubbi che verrà finanziato. Quindi assieme a quello che è in atto da parte della provincia per il tratto sud, renderà la costa ortonese come forse quella che prima sarà attrezzata a livello di fruizione ciclopedonale. Abbiamo visto il risultato anche in termini di apprezzamento non solo da parte dei cittadini ortonesi ma anche di tutti i turisti, per ora quelli della domenica, ma noi contiamo anche in un turismo più strutturato di quelli che decideranno di venire ad Ortona per la prima volta grazie a questa importante infrastruttura e anche a quelle altre di cui dovremmo dotare la città. Poi cos'altro? Noi stiamo ragionando anche in termini a breve faremo, per ora non ci siamo espressi, un primo intervento importante di manutenzione delle strade cittadine. Il nostro bilancio non ha potuto impegnare troppo in termini di mutuo, come sappiamo, però su 450 mila euro di mutuo 300 mila saranno dedicati alle strade. Abbiamo deciso di non fare due strade bene e lasciare tutto il resto non completato, ma di intervenire su tutte le situazioni di degrado, diffusamente in tutto il territorio comunale. Quindi per quest'anno sicuramente andremo a fare un intervento importante che metterà in sicurezza la maggior parte delle strade. Però il prossimo anno ribadiremo ancora con un fondo, magari speriamo, ancora ulteriore e più importante per portare finalmente a regime il recupero della viabilità ortonese. Ora che potrà contare finalmente sulla collaborazione di un dirigente, quali saranno i primi due dossier che sottoporrà al dirigente? Allora, il primo dossier su cui lavoreremo, su cui stiamo già lavorando, è sicuramente il PRG. Allora, ricordiamoci che noi abbiamo un PRG del 94 e tante amministrazioni ci si sono messe di impegno non riuscendo per ora, non so se è forse una particolarità della complessità di Ortona, del suo territorio, ma non si è riusciti a dotare questa città di un PRG. Stiamo già studiando la situazione del pregresso, di quello che abbiamo ereditato, a livello di produzione proprio. Noi abbiamo in questi ultimi mesi, dal momento in cui si sapeva che sarebbe giunto questo nuovo dirigente, abbiamo studiato insieme a questo nuovo dirigente il da farsi. Quindi abbiamo perso qualche mese per riflettere bene, ma adesso ripartiremo in modo molto molto rapido. E' veramente uno dei primi risultati che emergeranno, saranno proprio quelli in merito alla scelta di come far ripartire la procedura di PRG e noi però vogliamo anche portarlo a conclusione, questa procedura, portarlo a conclusione, arrivare all'approvazione definitiva e dotare la città di questo strumento di cui non può non essere dotato. Poi il secondo, il secondo in realtà ne sono tanti, ad esempio abbiamo un'emergenza cimiteria ad Ortona e ho chiesto di accelerare le procedure per l'avvio delle gare d'appalto successive, delle progettazioni per dotare il cimitero di Ortona di ulteriori e numerosi e nuovi interventi per loculi e cappelle per rispondere a questa esigenza fondamentale per una città, un segno di civiltà e anche per ridare decoro a quella struttura. Poi cos'altro? Ci sarebbe una lista lunghissima che man mano però sarà ogni nodo che verrà al pettine ma ognuno di essi avrà la sua importanza nel tempo a venire. Con la nomina delle dirigente l'assessore Totaro avrà un importante supporto per risolvere i problemi della città. Quale sarà il primo problema, sinora rinviato, che ora potrà chiedere di risolvere all'assessorato, ai lavori pubblici e al nuovo dirigente? Innanzitutto colgo questa occasione per fare il benvenuto all'ingegner Coccia. Un arrivo atteso da vent'anni da questa città e non solo dall'ufficio tecnico. E' tutta la città che attendeva un dirigente di nomina e non un dirigente a contratto come è stato negli ultimi anni. Perché c'è tutta una macchina amministrativa, c'è un ufficio tecnico da riorganizzare, da rimodernizzare. E credo che l'ingegner Coccia sia il massimo garante per raggiungere questo obiettivo. Quindi detto questo, il supporto che verrà dato all'assessore Totaro e il supporto che viene dato alla città, che viene dato a questa amministrazione, è il portare avanti i lavori che sono già in corso. Non c'è una priorità. Ci sono tante priorità su cui l'ufficio tecnico, anche se con difficoltà, ha portato avanti in questi mesi. Perché abbiamo ereditato delle situazioni irrisolte. Potrei citare il mercato coperto, potrei citare il piano regolatore, potrei citare il piano demaniale, il PRP, il dragaggio, il GPL. Tutte situazioni che noi abbiamo preso di petto e stiamo risolvendo. Certamente l'ingegner Coccia, il nuovo dirigente, darà nuovo impulso e sicurezza, competenza, trasparenza nel risolvere prima possibile queste problematiche che la città aspetta da anni. Il primo, potrei in ordine cronologico, sarà proprio il primo appuntamento giovedì 5. Alle ore 13 andremo in Regione perché la Regione ci prospetterà una situazione, una ipotesi alternativa per l'immersione delle sabbie, di cui tanto si parla in questi giorni. E per cui la Regione ha dato una sospensiva di 90 giorni per l'inizio dei lavori del dragaggio. Ascolteremo la Regione e dopodiché la città verrà informata. Grazie a tutti.